A cento anni dalla nascita di Rocco Scotellaro continuano le iniziative per celebrare e aprire nuove prospettive di studio sul poeta, scrittore e politico lucano che ha segnato la storia del Novecento. Si è aperta infatti a tricarico la tre giorni del convegno internazionale di studio Rocco Scotellaro, un intellettuale contadino, scrittore oltre la modernità. Momento che ha visto studiosi da tutto il mondo approfondire sotto diversi aspetti la figura e l'attualità del sindaco poeta. Abbiamo aperto tre giorni di convegno internazionale sulla figura di Rocco Scotellaro ed è una delle principali iniziative delle numerose che per conto della regione Basilicata stiamo portando avanti per celebrare i cent'anni della nascita di Rocco Scotellaro. Un impegno che dietro la volontà del Presidente Bardi APT sta realizzando con il coordinamento di un comitato scientifico che è presieduto dal Professor Franco Vitelli e che ha con dovizia di relazioni intestute negli anni di una lunga carriera ha consentito di mettere insieme oltre 30 relatori che rappresentano più di 15 istituti scientifici qui fra Tricarico e Matera per ricordare la figura di uno dei principali autori lucani del Novecento. Una figura che è ancora attuale il cui insegnamento come è stato detto poco fa è un insegnamento universale e proprio per questo attraverso la sua figura possiamo anche celebrare i valori della Lucania, i valori della Basilicata e promuovere attraverso i suoi personaggi una regione che è da scoprire nei nostri paesi così come a Tricarico così come nei nostri personaggi attraverso le loro opere. Un'azione doverosa per fare il punto su Scotellaro nell'occasione del centenario e proiettarlo oltre. Questa proiezione a me appare che avvenga nella maniera migliore. Partire da quello che è stato il sostrato antropologico-culturale della sua opera e della sua formazione cioè il mondo contadino e porsi il problema del perché questo mondo contadino e quindi anche scotellaro venga ancora oggi molto ma molto come dire osservato. Perché evidentemente questo strato storico-antropologico-culturale del mondo contadino non è come si vuole far pensare una remora a un peso ma evidentemente è qualcosa che lo congiunge e lo unisce al mondo nostro. Qui non siamo più alla modernità ma Scotellaro che vive e parla ancora oltre la modernità. La figura di Rocco è stata quella che ha capito il protagonismo dei contadini, la loro rabbia e voglia di partecipare, li ha fatti sentire per la prima volta non più contro lo Stato e quindi con la possibilità, dopo che le lotte erano finite, di poter arrivare anche a una riforma legislativa che naturalmente poi è stata limitata e molto controversa ma che aveva alle spalle questo grande movimento in cui per la prima volta i contadini erano legittimati a essere parte dello Stato. Scotellaro durante la sua vita è stato attentissimo anche non solo alla poesia, alla letteratura ma anche a quelle che noi chiamiamo oggi le infrastrutture. Lui per esempio tra le prime infrastrutture con Mazzarone a Tricarico ha creato il nuovo ospedale o comunque un presidio ospedaliero. Noi come fondazione nei prossimi mesi lanceremo alcuni progetti che hanno proprio a che fare con la riduzione del gap in Basilicata che c'è sul settore delle infrastrutture culturali. Uno di questi progetti riguarda proprio le biblioteche. Oggi le biblioteche nelle aree interne e nelle due città medie della Basilicata sono davvero un presidio culturale importante da preservare e da valorizzare. Abbiamo un fiore all'occhiello come la Biblioteca Nazionale di Potenza, abbiamo una biblioteca di Matera che va assolutamente rivitalizzata e abbiamo una serie di piccole biblioteche nelle aree interne che possono diventare dei centri di catalogazione legati alle biblioteche principali e poi abbiamo tanti piccoli paesi dove manca una biblioteca ma dove possono essere realizzati dei presidi culturali che poi gradualmente possono diventare biblioteche. Questo ci sembra un omaggio a scotellaro concreto. E poi ci sono altre cose che si stanno muovendo in fondazione per celebrare questo centenario. Per esempio un podcast su Scotellaro che sarà realizzato da Cora Media che molti di voi conosceranno come una delle società di podcast narrativi, una delle più importanti in Italia. A noi piace pensare che non calerà il sipario su Scotellaro alla fine del 2023 ma che invece queste iniziative insieme ad altre manterranno aperto il sipario su Scotellaro e anche attraverso per esempio un'attività di catalogazione e digitalizzazione delle sue opere, dei libri per esempio che c'erano nella sua biblioteca, questo ricordo possa essere mantenuto fresco e vivo. Grazie.